Mi chiamo Marina Pieroncini e con mia figlia Agnese Gerbi abbiamo preso in gestione Casa Oliva da aprile 2017. Casa Oliva è un albergo tre stelle, residenza anche degli appartamenti, centro benessere ed fa parte degli alberghi diffusi, dell'associazione degli alberghi diffusi. È un posto che avevo scoperto cinque anni fa e già gestivo, lavoravo in altre strutture e questa mi era piaciuta subito perché ha un potenziale bellissimo, secondo me molto importante ed è poco conosciuta. Ed era poco conosciuta dai. Diciamo che la missione è far conoscere il borgo, la vita nel borgo. Ho ritrovato delle mappe dove c'era Casa Oliva, il castello di Barni segnato già dal 1600 e è talmente poco conosciuto che chiunque viene qui, sia italiano che straniero, rimana affascinato dal posto. Perciò la missione è far conoscere il borgo, far vivere il borgo. Diciamo che come ospitalità, come ospiti che arrivano qui da noi sono principalmente coppie, qualche famiglia, il 40% è gli stranieri e il restante italiani. Diciamo che stiamo puntando molto sugli stranieri perché amano questi posti. Nord Europa, Scandinavia, Svezia, stanno arrivando anche gli americani, perciò è vasta l'utenza, il bacino d'utenza è molto vasto. Far conoscere Barni, Casa Oliva, le Marche in tutto il mondo. Azienda Green, anche se non abbiamo campagna, cerchiamo un attimo di utilizzare, per quanto riguarda la ristorazione, prodotti al chilometro zero, prodotti proprio del luogo. Adesso in questo periodo abbiamo un piatto con le olive di cartoceto, visto che è il momento dell'olio DOP di cartoceto. Cerchiamo, vabbè, a prescindere dalla raccolta differenziata, abbiamo pannelli solari per l'energia elettrica, abbiamo cambiato tutte le lampadine o stiamo cambiando tutte le lampadine e stiamo mettendo il LED. Cerchiamo di mantenere il borgo proprio una piccola chicca in tutti i sensi. Casa Oliva occupa l'80% del borgo di Barni. Insieme a noi ci sono dieci abitanti e in più una piccola osteria che ha due camere. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sto molto sul pezzo, nel senso che siamo social a 360 gradi, perciò puoi trovare Casa Oliva sul nostro sito che è www.casoliva.it, sulla pagina Facebook, su Instagram, su LinkedIn. Cerchiamo di essere ovunque perché ormai il mercato è social, non puoi non essere sul web. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.